Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Benvenuti al meteo, pressione atmosferica in aumento su tutta Italia, il tempo migliora dunque sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 27 aprile. Sul Veneto in pianura avremo nebbie locali fino all'alba ma in dissolvimento nella mattinata. A seguire cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso ma insomma sarà ampiamente soleggiato. Precipitazioni assenti, venti a tratti moderati da nord-est. Temperature in aumento minime tra 6 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, il cielo si presenterà limpido, come vediamo poco nuvoloso su pianura e costa, qui con bora moderata. Temperature minime sugli 8-12 gradi, massime sui 19-20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove di fatto avremo poche novità, anche qui ampio soleggiamento ovunque con cielo, sgombro da nubi. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.